I Maya sono un antico popolo indigeno che ha abitato le regioni dell'attuale Messico, Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador. La loro civiltà fiorì tra il 2000 anno corrente e il 1500 dc, raggiungendo il suo apice tra il 250 e il 900 dc. Durante questo periodo, i Maya svilupparono una delle più avanzate e sofisticate civiltà dell'America precolombiana. La storia dei Maya può essere suddivisa in tre periodi principali, il periodo preclassico, 2000 anno corrente, 250 dc, il periodo classico, 250-900 dc, e il periodo postclassico, 900-1500 dc. Durante il periodo preclassico, i Maya iniziarono a stabilirsi in villaggi agricoli e svilupparono le prime forme di scrittura e calendario. Nel periodo classico, le città stato Maya raggiunsero il loro massimo splendore, con grandi complessi architettonici, avanzati sistemi di scrittura e un'economia basata sull'agricoltura, il commercio e la guerra. Nel periodo postclassico, l'impero Maya subì un declino, con la caduta delle grandi città e l'ascesa di nuovi regni. La cultura dei Maya era estremamente ricca e complessa. Erano noti per le loro abilità nell'architettura, nella scultura, nella pittura, nella ceramica e nella lavorazione dei metalli. Costruirono grandi città con imponenti templi, palazzi e piattaforme cerimoniali. La scrittura Maya, nota come geroglifici, era una delle più avanzate dell'epoca e veniva utilizzata per registrare eventi storici, genealogie, rituali religiosi e conoscenze scientifiche. I Maya avevano anche un sistema di calendario altamente sviluppato, che combinava il calendario solare di 365 giorni con un calendario sacro di 260 giorni. La religione giocava un ruolo centrale nella vita dei Maya. Credevano in una moltitudine di dei e spiriti, che governavano ogni aspetto della natura e della vita umana. I sacerdoti Maya erano responsabili di condurre rituali e cerimonie per placare gli dei e garantire il benessere della comunità. Sacrifici umani erano praticati in determinate occasioni, come offerta agli dei. L'economia dei Maya era basata principalmente sull'agricoltura. Coltivavano mais, fagioli, sucche, cotone e cacao. Il commercio era anche una parte importante della loro economia, con rotte commerciali che si estendevano per migliaia di chilometri. I Maya erano abili artigiani e producevano oggetti di lusso come gioielli, ceramiche e tessuti pregiati, che venivano scambiati con altre culture. Nonostante la grande prosperità e l'avanzamento culturale dei Maya, la loro civiltà subì un declino misterioso intorno al 900 di C. Ci sono diverse teorie sulle cause di questo declino, tra cui guerre, cambiamenti climatici, sovrappopolazione e collasso del sistema politico. Molte delle grandi città Maya furono abbandonate e la conoscenza della scrittura e del calendario Maya andò perduta per secoli. Negli ultimi decenni, gli studiosi hanno fatto importanti scoperte e progressi nella decifrazione della scrittura Maya e nella comprensione della loro cultura. Oggi, i discendenti dei Maya continuano a preservare la loro lingua, tradizioni e conoscenze ancestrali. In conclusione, i Maya sono un popolo antico e affascinante che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia e nella cultura dell'America centrale. La loro civiltà avanzata e sofisticata ha lasciato un'eredità duratura, che continua a influenzare la nostra comprensione del passato e del presente.